Salve gente e benvenuti sul mio canale, io sono Leandro, tutti mi chiamano Leandro e anche voi potete chiamarmi Leandro Sono io, esatto, questo qua Volete sapere di cosa parla questo canale? Ok, parla di gameplay e recensioni No no no, ferma, 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 ferma Avevamo detto niente gameplay e recensioni, ricordi? Oh mio Dio, ci rischiamo Con i gameplay e le recensioni ci facciamo le fuse Vuoi rimanere sempre dietro, Zabaku? Non vuoi spiccare il volo? O vuoi rimanere per un puncino d'acqua dolce? I pulcini non sono di acqua dolce? Ma poi scusa, ma chi sei? Perché questa voce? Eh, sono la voce della tua coscienza creativa E ho una voce diversa dalla tua Perché le persone che guardano il video capiscono chi sta parlando dei due In effetti Quel canale non parlerà assolutamente di gameplay e recensioni Stami a sentire bene Allora, il piano è questo Ci facciamo qualche partita, registriamo Poi montiamo tutto in maniera molto veloce e casuale Ci mettiamo una musica simpatica sotto E il gioco è fatto! Potesseremo milionari! Oh, se no anche meglio Prendiamo Minecraft Chi non ha mai Minecraft? Chi è che non ha mai giocato a Minecraft? Piccoliamo come se non ci fossimo domani Costruiamo una mega struttura Fatta di TNT E poi la facciamo esplodere Mille pezzi È fuori discussione È proprio fuori discussione Non esiste ragazzi Cioè io ho creato il canale Come quella volta che volevi chiamare il canale Lo sfogo Che veniva canale di sfogo Ma ti rendi conto le fogne? Quale passezza? Ma chi si chiamerebbe il canale le fogne? Lo sfogo? E poi cosa fa? Il video sull'evoluzione delle pantecane? Ma per favore Per favore Devi dare retto a me Perché non è voluto Comunque Il canale Si chiama Leandro Sono io che lo giro E quindi decido io cosa devi dire a te Non il contrario Ah, sei veramente sicuro di essere te a girare questo video? O sono io che sto montando il video come mi pare E ti faccio dire cosa mi pare? Ora che ci penso Non mi ricordo di aver scritto questo video No, a parte gli scherzi Io non sto scrivendo niente E quindi Se non sei stato tu E non sono stato io Chi sta orchestrando tutto questo? Io non sto Grazie per la visione!